La sconfitta contro il Catanzaro ha lasciato la mare in bocca ai tifosi rossazzurri che nelle giro di otto giorni hanno assistito a due sconfitte inframmezzate dalla vittoria stentata con il Siracusa. Tra cambi di modulo e turnover la squadra rossazzurra sembra sia andata in confusione sebbene Sottilla abbia giustificato la prestazione di domenica con la stanchezza dei suoi giocatori. La difesa a tre non ha retto di fronte alle folate offensive dei calabresi, il centrocampo è apparso lento e l'attacco stranamente a Bulico. Insomma il siracusano Auteri ha fatto un figurone e questa non è una novità tanto non a venire considerato ormai la bestia nera delle Catania. Ad ogni modo la prossima squadra che i viaggianti e compagni affronteranno sabato alle 18.30 è la Juve Stabia dell'ex Caserta, il peggior avversario possibile al momento ma anche uno stimolo per la squadra rossazzurra a far meglio e riprendere la marcia verso le prime posizioni. Nulla è perduto, ci sono ancora due gare da recuperare ed il Le Catani è quarto a quota 17 insieme a Vibonese e Leonzio. L'importante sarà credere nei propri mezzi e giocare concentrati come nelle prime giornate. Per quanto attiene le altre siciliane, il Le Trapani è proiettato alla sfida casalinga contro la Virtus Francavilla in programma sempre sabato alle 14.30. Il punto di Caserta è servito a restare sulla scia delle sorprendente Rende. Restano tuttavia le difficoltà ad andare in gol e nonostante Italiano abbia mischiato le carti in attacco optando inizialmente per il trio Tulli in Zola D'Ambros. Nessun dramma in casa Sicula Leonzio per la sconfitta con il Rende che non ha permesso di realizzare le poker di vittorie consecutive. Le occasioni non sono mancate ma l'attacco ha stentato, sebbene Bianco abbia messo in campo il miglior potenziale offensivo possibile con Gammone, Sainz, Mazza, Gomez e Ripa. I bianconeri contano di rifarsi sabato a Monopoli. In casa Siracusa ci si interroga sulle perché della prestazione sottotono fornita contro le Francavilla. Due sconfitte su due gare alla guida tecnica non sono un buon biglietto da visita per il nuovo tecnico Pazienza, anche se c'è la convinzione che sabato possa finalmente arrivare contro le Biscegliel De Simone, una vittoria che migliorerebbe una classifica al momento deficitaria. Una tifosa del Catanzaro è stata arrestata da personale della squadra mobile della Digos di Catania perché trovata prima della gara tra la squadra siciliana e calabrese allo stadio Angelo Massimino con un petardo nascosto nel Reggiseno. L'episodio è avvenuto due giorni fa prima della partita Catania-Catanzaro vinta dai calabresi per 2-0 valida per il campionato di Serie C, un articolato servizio di ordine pubblico e capillari controlli alle due tifoserie che sono caratterizzate da una forte rivalità e che in passato si erano violentamente scontrate erano stati disposti dal questore Alberto Francini. La donna informa una nota della questura perquisita in un punto di raccolta prima della partenza del convoglio di tifosi del Catanzaro allo stadio sarà sottoposta anche al provvedimento di Daspo. Grazie a tutti.